Mercato in fermento nel campionato di promozione, attivissima la Virtus Avellino, la società bianco-nero-verde mette a segno un importante colpo. Alla corte di Rino Crescitello arriva Vincenzo Torsiello, l'attaccante classe 1986, quindi fa la coppia con De Simone. Nelle ultime sei stagioni il bomber ha sempre superato le 20 reti. La cavalcata da record ha avuto inizio nella stagione 2010-2011, quando tra Pisa Cese, Scandone Montella, Torsiello realizzò 23 gol. I 24 centri nella stagione successiva con la maglia del Lioni furono determinanti per far sì che la nascente società del Lusco Lioni decidessi di affidare le proprie sorti a questa prodigiosa attaccante. 22 furono i gol realizzati nella stagione 2012-2013, uno in meno rispetto a quella successiva, giocata con la maglia del Lusco 75. Nell'estate del 2014 passaggio al Grutta, 25 gol il primo anno e 23 la passata stagione. In sei stagioni 140 gol messi a segno. Leonardo Surro invece vorrebbe portare ad Accadia Vittorio Paolo Caruccio, esperto e estremo difensore con cui ha condiviso l'esperienza di Mirabelle Clano. Nel frattempo il terzino Gianluca Guerriero, classe 1998, lasci Baiano per accasarsi all'eccellenza pugliese. Il difensore ha trovato l'accordo con il barletta di Sergio Lacava. Il difensore ha trovato l'accordo con il barletta di Sergio Lacombe.